Grecia sotto i riflettori alla vigilia dell'Eurogruppo di lunedì. Il Parlamento ellenico ha dato il via libera a un pacchetto di riforme necessarie per sbloccare una prima tranche da 2 miliardi di euro del terzo piano di aiuti. Tra le misure l'aumento delle aliquote sul diesel agricolo, gli interventi sul sistema pensionistico, l'allineamento alle regole europee sull'efficienza energetica e la definizione delle condizioni di vendita del porto del Pireo. L'accordo con i creditori sulle misure meno popolari però ancora non c'è, anche se da Atene si dicono fiduciosi che arriverà a breve.